Al San Nicola domani la sfida tra i bianco-rossi e i bianco-verdi. Il cartello campionato cadetto con fischio in inizio alle ore 18 propone Bari-Avellino. Un match interessante anche per Capitan Caputo che domani potrà raggiungere un importante traguardo, ovvero le 200 presenze in campo tra i professionisti. Nel suo passato le casacche di Salernitana, Noicattaro, Siena e Bari, tra Massima Serie e Lega Pro. Una presenza alla sua certamente rilevante per la troupe del trainer Mangia, capace più e più volte di fornire il proprio apporto in termini di gol e incisività. Al San Nicola punta Caputo, spera inoltre di andare in rete anche per traguardare la 64esima signatura di carriera, nonché la 43esima marcatura con la maglia barese. La battaglia nell'antronave pugliese tra Galletti e Lupi, i primi intenzionati a raggiungere la seconda vittoria interna dopo il bottino pieno con il Livorno, e il secondo invece vogliosi di non lasciare punti al San Nicola. La capolista infatti in serie utile da ben sei giornate. Unico scivolone erpino in data 7 a settembre contro il Cittadella, a Bari pronto ad animare gli spalti, il dodicesimo uomo in campo, ovvero i tifosi. I biancorossi potranno contare infatti su un grande ritorno di pubblico, pronti a seguire i colori bianco-verdi e anche un nutrito numero di supporter silpini. Cresce perciò l'attesa per un match che si preannuncia spettacolare sul rettangolo verde e non solo. Il coach Mangia ha recuperato pedine preziose come Donati e Galano, i biancorossi cercano la giusta quadratura per riuscire a fare risultato nell'ostica gara, possibile modulo l'ormai consolidato 4-3-3.